Un milione e mezzo di donne, circa il 9% della popolazione femminile in Italia, ha subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Dati aggiornati del fenomeno rilevati dall'Istat. Molte donne ne sono vittima per essere assunti o per mantenere il posto di lavoro, per ottenere promozioni in carriera. Ma in generale i fenomeni di violenza, mobbing o discriminazione interessano in via trasversale i lavoratori in generale, per questo va alzata la guardia. Se ne è parlata in una tavola rotonda promossa dal Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale, allo scopo di allargare la visione ed esplorare il tema. Evento ideato e organizzato in collaborazione con il consigliere di fiducia dell'ente Marco Mastraccia e sostenuto da ANCE. Obiettivo sensibilizzare coloro che lavorano in aziende ed enti pubblici, anche per fornire strumenti che rendano i lavoratori capaci di difendersi. A seguito dell'applicazione di una direttiva comunitaria, la regione Abruzzo si è dotata del consigliere di fiducia, il consiglio regionale, che ha come compito quello di assistere e aiutare i dipendenti regionali nel caso in cui subiscano degli atti discriminatori, mobbing o violenza sul posto di lavoro. Tutti dovrebbero farlo, i dati a livello nazionale sono importanti in questo senso, però è anche importante fornire questi momenti di approfondimento per informare anche dei lavoratori che ci sono degli strumenti di tutela per difendersi. Assolutamente sì, nel senso che il problema oggi è la formazione, cioè la gente, i lavoratori in particolare, non sanno che cosa fare nel momento in cui subiscono un atto discriminatore o di mobbing o quant'altro. Quindi è chiaramente la mia figura di garanzia proprio per i lavoratori che hanno un punto di riferimento a cui rivolgersi.